eccoci qui ancora manca un minuto alla fine della partita incredibile quello che sta succedere stasera a sassuolo sassuolo juve 4 a 2 errori marchiani della juve incredibile gatti che sa fare letteralmente autogol che fa una marea di cazzate e dopo fa anche due miracoli quindi davvero incredibile stasera sta partita mamma mia col di laurent e poi ha segnato l'autogol di vigna è incredibile poi va in vantaggio di nuovo berardi il sassuolo aspetta che tu qui poi segna chiesa poi ancora pinamonti porta in vantaggio il sassuolo e poi definitivo gol tu qui segna berardi ma per me forse berardi non lo so se l'autogol o berardi comunque è incredibile quello che succede stasera incredibile come la juve sia altamente a intermittenza tra l'altro da frella ha preso anche la traversa quindi mamma mia davvero la juve davvero pessima 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 tifosi della juve davvero cazzati come una bestia sarebbe incredibile il contrario ovviamente secondo me la juve quando manda via allegri stappano champagne tifosi della juve con annessa lasagna incorporata perché c'ha giocatori che fumano i coglioni secondo me li tiene in panchina porca puttano stesso fagioli in panchina avea in panchina bah per carità per carità lo stesso volavic che oggi insomma ha letteralmente mangiato un gol è incredibile anche lui e quindi sassuolo juve 4 a 2 mamma mia festival dei gol migliori in campo secondo me per la juve ci metto chiesa e fagioli per loro ci metto baco liberardi loro ente anche se si è mangiato un gol quindi va bene e poi chi altro che basta sinceramente sassuolo finalmente si ritorna a vittoria gran sassuolo direi ottimo ottima partita sassuolo nella fase anche perché soprattutto per quello che hanno fatto nelle ultime partite davvero scialbi secondo me sassuolo ai pinamonti ovviamente ci mette migliori anche se ha toccato una palla sulla segnata ma tanto basta attaccante basta un'occasione che la butta dentro anche se tra me sinceramente pinamonti non mi piace mai però questo è un parere mio comunque brutta 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 partita della juve secondo me sì un po di qualche svampo ogni tanto ma fossi tifoso della juve sarebbe più che incazzato sinceramente ecco finita adesso sassuolo batte juventus 4 a 2 e prima macchia di giornata che secondo me farà stracciare a mare alle schedine se ovviamente se siete giocato x 2 o polo 2 e quindi vedrete le schedine perse poi avessi cercato over 2 e mezzo ora stiamo sul sicuro anche gol ma infatti questa è una pariera da gol over 2 e mezzo eccetera qui c'è sta capì sempre di più che appunta sui segni quasi mai e quindi niente brutta juve secondo me gran sassuolo e quindi niente appuntamento dopo anche se non vedo a lazio perché gioca il dubbio adesso e quindi vedo il dubbio però a lazio secondo me multigol 2 cinque c'è potrebbe stare secondo me oppure uno fisso calazza la vince contro il monza secondo me poi fa altre battute d'arresto anche se da romanista ovviamente non sarebbe male e quindi niente per quanto riguarda il dubbio secondo me pronostico anno e due e mezzo non sarà facile contro la vispeso l'ha battuto anche l'entella l'altra volta tra l'altro l'entella che sta cadendo letteralmente a pezzi nel nostro girone quindi mamma mia e quindi niente appuntamento a dopo